Bottas! Secondo posto! Emozione pura! Charles Leclerc! Mamma mia, dove non ti aspetti? La Ferrari fa secondo! Attenzione, perché Hamilton ha 5 secondi di penalità! Attenzione! Landone Norris! Terzo! Terzo! Fuori dal foglio la Mercedes Lewis Hamilton! Porca puntana! Che ripartenza di Formula 1! Avevano detto che ci facevano divertire e hanno promesso le aspettative! Che gara, signori miei! Che gara! Che gara! Mettiamoci qui perché se no mi danno il copyright! Che gara! Ricapitoliamo un po' la gara! Ricapitoliamo la gara, signori miei! Mi sono scritto tutto! Bottas! Attenzione Norris! Giro veloce! Si prende il punto bonus! Leclerc! Secondo, come detto! Allora, ritiro di tantissime macchine! Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ritiri! 9 ritiri, signori miei! 9 ritiri! Fra cui per Stappen! Aveva vinto le ultime due edizioni del Red Bull Ring! Si è ritirato al 14esimo giro, 18esimo Ricciardo, al 21esimo Stroll, al 26esimo Magnussen, al 50esimo Crosan, al 51esimo Russell, al 55esimo per la ruota non fissata, quindi multa ulteriore per la Alfa Sauer, al giro 55 e poi al giro 70, ora non mi ricordo, 68, 70. Chiatt ha rotto la macchina, addirittura ha spaccato la gomma, si è bucata la gomma, e Alexander Albon, sempre per problemi tecnici, signori miei! Signori miei, 3 safety car mai successo nella storia! Che cosa dire, signori miei? Ante di investigation per Hamilton e Albon per un contatto, ha preso 5 secondi Hamilton, ecco perché è fuori dal podio e aveva preso anche 3 posizioni, se non sbaglio partiva a quinto! Hamilton per regime di maniera gialla non rispettata, ha fatto ricorso alla Red Bull, ma la Red Bull se l'è preso nel culo, anche oggi, perché non ha portato nessuna macchina a punti! Cosa dire, signori miei? Leclerc ha iniziato a carburare, dove i motorizzati Mercedes erano in difficoltà, si è visto anche un Hamilton, un Bottas calare di prestazioni incredibilmente, la Racing Point è crollata, è crollata alla fine, ma cosa dire? Il team audio di Landone Norris, fuck you, fuck you, mamma, questo Landone Norris merita tanto rispetto! Signori miei, signori miei, Charles Leclerc ha fatto un capolavoro, due sorpassi, uno migliore dell'altro! Che cosa dire, signori miei? Lì dove non ti aspetti la Ferrari piazza al secondo posto con Charles Leclerc? Vettel, signori miei, grande delusione pure oggi, voleva sfruttare un passaggio, se non sbaglio, di Leclerc su Norris, se non sbaglio, ora non mi ricordo di preciso, si è rigirato, ha fatto un macello, comunque ha recuperato, Giovinazzi, se non sbaglio, è andato a punti, grandissimo Antonio! Che cosa dire, signori miei, è stato un gran premio veramente divertente, non mi divertivo così a vedere una Formula 1, signori miei, da tanti anni, grandissima, grandissima ripresa di campionato! E ora c'è da vedere settimana prossima, signori miei, perché Hamilton sarà imbestialito, Verstappen sarà indiemoniato, è rientrato al quattordicesimo giro, signori miei, faceva così, questo era lui che guidava, faceva così, incredibile! Signori miei, ci vediamo questa sera per il post partita di Napoli-Roma, giocano stasera, mi sa di sì, non mi ricordo, mamma mia, signori miei, bella, 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 finalmente è tornata la Formula 1!